Dal primo aprile cambiano le regole. L'Italia non sarà più divisa in colori e tutte le regioni saranno in zona bianca. Il Green Pass resta per i luoghi al chiuso, poi dal primo maggio si cambia. Gli esperti però ribadiscono l'importanza di continuare a essere prudenti anche perché negli ultimi dieci giorni abbiamo assistito a un aumento di contagi da Covid-19 in tutto il paese. In Abruzzo, così come confermato dai report giornalieri diffusi dall'Assessorato alla Sanità della Regione, c'è stato un incremento dei casi di positività ma resta sotto controllo la pressione ospedaliera. L'innalzamento della curva del contagio è legato, secondo quanto riferito dal professor Liborio Stupia, responsabile del Laboratorio di Genetica Molecolare dell'Università d'Annunzio, alla diffusione sul territorio della variante Omicron 2, passata dal 20 al 30% dei casi in Abruzzo. L'arrivo di mutazioni è inevitabile, hanno sempre precisato i virologi. Quest'ultima però è più trasmissibile rispetto ad altre varianti ma presenta sintomi più o meno lievi nelle persone vaccinate. Anche il freddo ha favorito l'incremento dei casi, da non sottovalutare poi l'arrivo delle persone fuggite dall'Ucraina a causa del conflitto. Negli alberghi sono stati registrati dei positivi anche perché chi arriva esegue i tamponi.